che appunto il lavoro di Freud fu influenzato dagli studi sia di Breuer che di Charcot che si dedicarono entrambi appunto agli studi sulle pazienti isteriche. Vediamo che Breuer nello specifico soleva trattare queste pazienti isteriche tramite appunto l'ipnosi. Infatti egli appunto ipnotizzava queste pazienti e le faceva parlare sotto ipnosi cercando di fare ritrovare durante la seduta ipnotica alla paziente il nesso tra la situazione originaria, quindi la situazione che aveva causato appunto l'isteria e i sintomi. E aveva notato appunto che in questo modo i sintomi scomparivano. Vediamo che sia Breuer che Charcot sostenevano appunto che i sintomi delle pazienti isteriche fossero il risultato di sovrastimolazioni a cui era sottoposta appunto la paziente. Vediamo che però nonostante questi studi influenzano molto poi i lavori successivi di Freud, Freud si va a discostare da entrambi in quanto i sintomi ritornavano con la fine dello stato ipnotico e poi non tutti i pazienti erano appunto ipnotizzabili. Quindi Freud andò a sostituire il metodo dell'ipnosi col metodo delle libere associazioni in cui i pazienti venivano appunto invitati a dire tutto ciò che passava loro per la mente senza imporre alcuna censura. Inoltre vediamo che e quindi Freud arrivò attraverso appunto una serie di osservazioni cliniche a sostenere appunto che il sintoma isterico fosse il prodotto della rimozione di un processo mentale dalla coscienza e che quindi il sintoma isterico rappresentasse il sostituto di tutto ciò che veniva rimosso dalla coscienza. Secondo Freud poi la guarigione avveniva soltanto attraverso l'abreazione cioè attraverso la scarica emozionale, quindi la scarica di quell'energia mentale del soggetto che era stata appunto rimossa attraverso appunto le associazioni libere e attraverso cui quindi il soggetto andava a liberarsi appunto di un trauma e quindi in una sorta di atto catartico. Un altro concetto fondamentale del modello Freudiano è proprio anche il concetto di transfert. Con transfert si intende appunto quel legame affettivo che si va a instaurare tra il medico o comunque tra il terapeuta e il paziente nel corso della terapia. Inoltre un altro elemento fondamentale del modello di Freud è proprio la distinzione dei disturbi psichici in psiconevrosi o nevrosi ossessive e nevrosi attuali. Le psiconevrosi sono appunto quei disturbi psicopatologici che nascono appunto da un conflitto psichico che a sua volta ha appunto delle cause di natura sessuale infantile quindi che può essere ricondotto ad un trauma infantile di natura sessuale. Mentre appunto nel caso delle nevrosi attuali facciamo riferimento a quelle nevrosi che vengono causate invece da un ingorgo psichico di tipo attuale cioè che non deriva da un trauma infantile. Vediamo appunto che secondo Freud dal punto di vista psicoterapeutico la psicanalisi non poteva curare né le nevrosi attuali né le nevrosi narcisistiche ma soltanto appunto le nevrosi ossessive o le psico-nevrosi. Perché? Quindi dicevo che Freud distingue i disturbi psichici in psico-nevrosi o nevrosi ossessive e nevrosi attuali. Le psico-nevrosi sono appunto quei disturbi che originano appunto da un conflitto psichico la cui causa appunto è di natura sessuale infantile. Mentre appunto le nevrosi attuali fanno riferimento appunto ad un ingorgo libidico di tipo attuale quindi non riconducibile ad un trauma infantile. Vediamo che appunto la psico-analisi fu sviluppata appunto dapprima allo scopo proprio di curare l'isteria, le fobie e le nevrosi ossessive oppure le psico-nevrosi. Mentre dal punto di vista appunto psicoterapeutico Freud riteneva che la psico-analisi invece non potesse curare né le nevrosi attuali poiché è dovuta appunto ad una causa organica di accumulo di libido non scaricata né tantomeno le nevrosi narcisistiche come appunto la schizofrenia, la paranoia o gravi forme di depressione per l'impossibilità appunto dell'instaurarsi del transfert con lo psico-analista a causa proprio della libido troppo narcisisticamente centrata sull'io del paziente. Successivamente però vediamo che appunto col tempo la psico-analisi diventa un vero e proprio modello di lettura del funzionamento della mente sia normale che patologico. Vediamo che Freud appunto produrrà in maniera feconda fino alla sua morte avvenuta nel 1939 tuttavia rimane difficile andare a definire precisamente cosa sia la psico-analisi infatti oltre alla numerosità degli scritti di Freud abbiamo anche numerosissimi altri contributi che derivano appunto da una serie di autori che si sono ispirati al pensiero di Freud e hanno in un certo senso continuato gli studi e le teorizzazioni di Freud talvolta giungendo a costruire anche dei modelli molto diversi sia dal punto di vista teorico che per quanto riguarda appunto le cause della psicopatologia nonché il setting da impiegare, nonché appunto il tipo di pazienti trattabili e le tecniche impiegate. Nonostante appunto la vastità e la complessità del modello Freudiano e degli sviluppi successivi possiamo comunque andare a identificare degli elementi fondamentali della psico-analisi tra questi abbiamo appunto il concetto di conflitto conflitto che appunto viene appunto ritenuto la causa della malattia per conflitto si intende appunto quel meccanismo psicopatologico che va a sfociare poi in una nevrosi appunto e vediamo che la psico-analisi si differenzia da tutte le altre psicoterapie proprio per l'attenzione posta appunto a questo conflitto. Un altro elemento importante della psico-analisi è il concetto di sintomo dove per sintomo si intende appunto quella formazione di compromesso che nasce dal conflitto tra le varie strutture della psiche. Infatti secondo Freud il sintomo sarebbe appunto la risultante delle forze in gioco all'interno appunto del conflitto forze in gioco che possono essere che sono appunto sia le forze desideranti che le forze rimuoventi o proibitive. E in generale appunto il sintomo è quell'effetto segno della formazione di un compromesso tra queste forze in conflitto tra loro. Infatti il rimosso poi ritornerebbe irriconoscibile sotto forma di sintomo e la psico-analisi attraverso appunto le libere associazioni va a raggiungere proprio quelle che sono le cause del sintomo e quindi appunto quelle forze il cui conflitto ha trovato soluzione di compromesso proprio del sintomo. Quindi un altro elemento fondamentale della psico-analisi è il concetto di sogno. Il sogno rappresenta proprio l'appagamento di un desiderio rimosso e ciò lo rende simile al sintomo in quanto è anch'esso appunto una formazione sostitutiva e di compromesso. Infatti il sintomo avevamo detto che va a rappresentare appunto ciò che viene rimosso durante un conflitto psichico che si manifesta poi sotto forma appunto in maniera irriconoscibile sotto forma di sintomo. Allo stesso modo appunto il sogno rappresenta una formazione di compromesso sostitutiva di quello che è invece un desiderio rimosso. Vediamo che appunto il nucleo originale nascosto dei sogni è proprio infatti un desiderio o una fantasia rinfantile che lo sviluppo successivo ha reso inaccettabile. Vediamo che appunto il sogno presenta sia un senso nascosto che è legato appunto a quelle pulsioni arcaiche indicibili che va risvelato attraverso l'interpretazione di questo materiale da parte dello psicoanalista sebbene comunque il senso della trama urinica non sia facilmente accessibile. E poi il sogno ha anche un contenuto manifesto e consapevole che è appunto il risultato dell'intervento di alcuni meccanismi di deformazione che vanno a mascherare e trasformare quelli che sono i desideri proibiti e inconsci in delle immagini che sono le cosiddette immagini oriniche. Un altro elemento importante poi sono appunto le due teorie delle istanze psichiche ovvero la prima topica e la seconda topica. Nonostante la complessità del modello freudiano e di tutti gli sviluppi successivi vediamo che possiamo identificare degli elementi fondamentali della psicanalisi. Innanzitutto l'attenzione al conflitto psichico che viene considerata appunto la causa della malattia o comunque del disturbo psichico. Nello specifico si tratta di un meccanismo psicopatologico che scaturisce proprio da un conflitto tra le forze interiori del soggetto che sono le forze desideranti e le forze invece rimuventi o proibitive. Vediamo che proprio la psicanalisi si differenzia dalle altre forme di psicoterapia proprio per questa attenzione al conflitto. Un altro elemento fondamentale della psicanalisi è appunto il sintomo che secondo Freud è quella formazione di compromesso che nasce appunto dal conflitto cioè appunto è la risultante di quelle forze in gioco quindi le forze desideranti e quelle proibitive che trovano un compromesso proprio nel sintomo che rappresenta tutto ciò che in realtà viene rimosso dalla coscienza e che torna appunto irriconoscibile sotto forma di sintomo. Vediamo che appunto la psicanalisi attraverso le libere associazioni raggiunge appunto le forze responsabili del conflitto e quindi riesce appunto a spiegare il sintomo. Un altro elemento fondamentale è appunto il sogno che allo stesso modo cioè che come il sintomo rappresenta appunto una formazione sostitutiva e di compromesso. Infatti secondo Freud il sintomo rappresenta l'appagamento di un desiderio rimosso desiderio che appunto desiderio infantile o comunque fantasia infantile che invece lo sviluppo successivo aveva reso inaccettabile. In questo modo vediamo che appunto il sogno rappresenta una delle vie regge per la conoscenza dell'inconscio in quanto va proprio a riportare anche se sotto forma appunto mascherata quelli che sono i desideri inconsci del soggetto. Nello specifico infatti vediamo che il sogno presenta sia un contenuto latente quindi un contenuto nascosto che è legato a tutte quelle pulsioni arcaiche indicibili del soggetto e che può essere disvelato attraverso l'interpretazione del sogno stesso seppur comunque il senso della trama unirica non è facilmente accessibile. Poi un contenuto manifesto che appunto quel contenuto consapevole del sogno risulta